più maturo rispetto a quanto non sia in Italia e consente del fatto che nei prossimi mesi e nei prossimi anni in realtà il Medica avrà un ruolo centrale e importante anche per noi. Come abbiamo detto, la difficoltà sta nel comprendere questo sistema così complesso ed ecco quindi che abbiamo invitato alcuni dei massimi esperti della materia per cercare oggi di capire tutti insieme meglio. Io stesso mi metterò da quella parte per cercare da loro gli spunti per capirne di più. Chiedo a Marco Caradonna, Vice Presidente, noi andiamo a raggiungerci e iniziare a spiegare qualcosa per noi profani. Grazie Marco. Grazie a tutti per essere venuti, anzitutto. L'obiettivo di oggi è veramente provare a dipanare, a trasferire un po' di cultura. Abbiamo un parterre incredibile, ci abbiamo messo un po' a organizzarlo perché sono veramente, sono infortunati, sono veramente i massimi esperti mondiali in materia e organizzare le aziende di tutti non è stato facile. Vi invito un uomo, infine, in primis. Jesper Urbach di Alfred. Fabrizio Zucca di Microsoft Advertising Exchange. Gianluca Carrera, che è infitto italiano di Pammatic. Adesso vive a Londra, non lo stai del nome, eh Gianluca? E infine, Pierre Nagat di Tœur.